22esima tappa del campionato italiano, finale su gara unica al Tocatì di Verona. Giochi per i più piccoli, per allenarsi, qui ci si allena, si prendono i tappini, si riprova e bisogna cercare il 12, il 34, il 43, quest'acqua non so di chi sia, e questo è una praticità. C'è chi prova, oh che miseria, come tiro non è male, direi di sì. Sì, sì, sì. Sì, ma non sei arrivato, però è buono, qui è tutto buono. Una volta che entra dentro l'arena e si taglia la riga subito dopo la scritta traguardo, rosa fuzzi a rosa chiaro, esatto. Chi l'ha fatta l'arena? Il grande amico Gigi Dossena.